Grazie per noi, abbiate confidenza in noi, perché Gesù soltanto è la nostra vita. Non abbiate paura a rinunciare, perché rinunciare vuol dire amare, solo chi ama sa rinunciare, solo chi ama vuol rinunciare. Più rinunciare vuol dire amare, solo chi ama vuol dire amare, solo chi ama vuol dire. Questa è sanità.